Un cordiale saluto dalla redazione di Flores Multimedia in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla statale 223 di Paganico dove c'è traffico bloccato per un incidente avvenuto circa 800 metri prima del bivio per Batignano in direzione Grosseto. In Filippili un chilometro di coda tra Empoli-Ovest ed Empoli in direzione Firenze. Attenzione al personale sulla strada tra Empoli-Ovest e Montopoli-Valdarno e tra la diramazione per Pisa e Vicarello in direzione Livorno, tra Empoli-Ovest ed Empoli in direzione Firenze e in entrata a Montopoli-Valdarno in entrambe le direzioni. In A1 rallentamenti per il traffico intenso tra Calenzano-Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico in direzione Bologna. Attenzione al personale sulla strada tra Arezzo e Valdarno in direzione Bologna e tra Monte San Savino e Valdichiana in direzione Roma. Muoversi in Toscana Info in servizio e in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!